Bentornati su Hermes Channel Web TV, in un'altra puntata, in un altro sei che. Valeria, che sei che abbiamo oggi? Il sei che di oggi è inerente alle stagioni, ad una delle quattro in particolare dell'autunno. Lasciare l'estate per prepararsi al freddo ed è anche il tempo della vendemmia esprimuta dell'uva. Quindi anche noi di sai che abbiamo pensato ad una puntata speciale, quindi? Quindi parliamo dell'uva, del vino, del mostro e quant'altro. Comunque tutto questo ce lo farà vedere e ci farà capire qualcosina in più il signor Vita Antonio Giannuzzi di Castellana Grotte. Ma... Prima di vedere il video, se non siete ancora iscritti al nostro canale, fatelo adesso! E cliccate mi piace se vi piace questo video. E io dico sempre la famosa campanellina che vi suggerirà quando metteremo i nuovi video di sai che? E in più, se volete sponsorizzare il nostro canale, contattateci! E adesso vediamoci il video con l'intervista del nostro amico Donato Longo. Salve, ci troviamo presso l'azienda agricola di Vita Antonio Giannuzzi di Castellana Grotte. Il sai che di oggi è la vendemmia e la pigiatura dell'uva. Vita Antonio, perché stai vendemmiando ora? Allora, sto vendemmiando ora per il motivo che controllando il grado zuccherino mi sembra un punto giusto di gradazione che c'ha l'uva. Vedendo che il tempo ci ha permesso giornate buone di sole, ho trattenuto l'uva un po' più tardi del previsto. Se no, a fine settembre, dopo i 20 di settembre, già si può tagliare. Invece io ho visto i tempi, visto la situazione, ho trattenuto l'uva a fine e primi di ottobre. Come fai a calcolare la zuccherina dell'uva? Allora, si va in vigneto, si fa un po' di due acini da un grappolo, due acini dagli altri, sparsi in tutto il vigneto. Poi si fa la spremitura e con un termometro per gradazione di vino, di uva, si fa la gradazione che c'ha. Questo è un medito molto antico ancora. Che tipo di uva stai vendemmiando oggi? Oggi abbiamo fatto la malvasia nera e la malvasia bianca. Invece nel vigneto che avevo il primitivo, quello l'ho già fatto, sempre al discorso degli gradi zuccherini, l'abbiamo fatto intorno ai primi di settembre. Questo vigneto ha una sua tradizione? Beh, certamente. È un vigneto già fatto da mio padre perché soltanto era un vigneto a vaso basso, i ceppi bassi. Soltanto modernandoci, giustamente non si possono fare più certi lavori nel modo per andare avanti. Allora io ho strapiantato i vasi bassi, le piante basse e ho fatto lo spaglierone, come vedete in video. Lo spaglierone alto a petto, che l'uva la trovi ad altezza di petto. Che si fanno meno lavori, di solito, del spaglierone perché pure i tralci non vengono legati, non vengono fatto niente, vengono solo inseriti nei fili di ferro. Ho visto un tipo di uva che non si vede più. E sono qualità che ormai sono scomparse. Purtroppo per mantenere la tradizione di mio padre ho fatto dei pochi ceppi, fatti da me stessi, innesti fatti da me. È una qualità antica che ormai non si trova più. Siccome che c'era nel vecchio vigneto di mio padre, ho continuato a mantenere pochi ceppi per la tradizione. Quella bianca è l'andnied, invece quella nera è l'aliatica. Vita Antonio, parlaci della pigiatura. Allora, la pigiatura serve per schiacciare i chicchi dell'uva. E poi, in alcuni casi, o togliere le raspe o lasciare le raspe insieme. In che senso? Sarebbe che se ce l'hai a vinacciare per 5-6 giorni, le raspe si tolgono, se no dall'ammarognolo al vino. Invece, se devi fare subito la sprimitura nella pressa, conviene lasciare le raspe, come in questo caso, lasciare le raspe, se no la polpa schizza tutta fuori dai furi della pressa. Vita Antonio, allora, dopo la pigiatura cosa avviene? Allora, il discorso è che dopo la pigiatura viene presa tutta la polpa, messa in questo torchio, si carica il torchio, si mette in pressione. Allora, questa è una pressa manuale, ed esce il mosto. Allora, la fase successiva è quella che si prende il mosto, si mette nelle botti, si tiene in fermentazione, varia la fermentazione in base alle temperature da 10 a 15 giorni. Una volta che ce ne accorgiamo che la fermentazione è finita, si prende e si chiude la botte, si sigilla. E poi avviene, come è detto, che a San Martino il mosto diventa vino. Speriamo che i suggerimenti di Vita Antonio siano stati utili e che vi siano piaciute. Vita Antonio, allora, ci vediamo a San Martino? Certamente che ci vediamo a San Martino, con dei bei taralli e del buon vino. Arrivederci a tutti, ciao! Sai che può interessare o coinvolgere anche te?